In un momento di grande significato per l'Inter, Jan Bissek è emerso come una brillante prospettiva, lasciando il segno nella memorabile vittoria della squadra sul Salisburgo. Dopo la partita, Bissek ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista rivelatrice, svelando un assaggio del suo potenziale e della sua ambizione di imporsi come giocatore chiave nella rosa interista. La sua prestazione in campo è stata notevole, lasciando un ricordo indelebile nei tifosi e nello staff tecnico. Tuttavia, anche nel pieno dei festeggiamenti per la vittoria, Bissek non mancò di analizzare la propria prestazione con autocritica costruttiva. Ha riconosciuto il cartellino giallo ricevuto durante la partita, attribuendolo a un momento di intensa emozione. Tuttavia, questo piccolo inconveniente non ha oscurato la brillantezza della sua prestazione complessiva. Con umiltà e determinazione, il giovane giocatore ha valutato la sua prestazione come un successo. Ha sottolineato la pazienza che ha dimostrato aspettando il momento giusto per lasciare il segno nella partita. Questa pazienza, unita all'instancabile voglia di migliorare, sono tratti che definiscono la mentalità di un giocatore in ascesa. Bissek ha riconosciuto l'entità dell'opportunità che gli è stata data di essere selezionato per una partita di Champions League. La sua gioia e gratitudine per questa opportunità erano palpabili, riflettendo il suo orgoglio nel vestire la maglia dell'Inter in una competizione così prestigiosa. L'impegno di Bissek è chiaro. Continuerà a lavorare instancabilmente, mantenendo l'umiltà che lo caratterizza. Il suo obiettivo è conquistare la fiducia dell'allenatore e consolidare il suo posto nella formazione titolare. Il suo percorso è fonte di ispirazione per i fan, che vedono in lui non solo un talento promettente, ma anche un esempio di dedizione e resilienza. Il viaggio di Bissek all'Inter è appena iniziato e la sua presenza nel club è fonte di grande speranza e ottimismo. I tifosi sono ansiosi di vedere la continua crescita di questo giovane talento e il prezioso contributo che porterà alla squadra. Adesso vogliamo sapere la tua opinione su Bissek e la sua ascesa all'Inter, come valuti il suo in squadra e quali sono le tue aspettative per la sua carriera nel club? Commenta qui sotto!